Amici e maestro, oggi vi voglio parlare di che cosa succede quando vi prendete delle distorsioni o delle storte alle gaviglie. Mi fa male? Sì, no, lo so, questo è scontato. Però cosa potete fare? Vi faccio vedere cosa facevo io quando mi succedeva durante i miei allenamenti e le mie parte di palacadestra. Io lo so che molti di voi prendono la borsa del ghiaccio e ce lo mettono sopra il lato, oppure ci mettono il voltare e tutte queste creme. Sì, però c'è un metodo molto efficace, a costo zero, che sicuramente vi farà molto molto bene. Cosa? Guarda, vi dovete solo procurare questa qua. Vi faccio vedere. Allora, prendete una bottiglia di plastica e intanto la riempite d'acqua, così. Poi la mettete nel congelatore, a lei. Andiamo a vedere la bottiglia, eccola qua. Fantastica, si è inghiacciata. Falloware, il problema delle distorsioni, adesso andiamo a stagliare la plastica. Il problema delle distorsioni alle caviglie è che sì, si gonfia solo un lato, però è interessata tutta la caviglia, quindi tutti i legamenti e la capsula interna. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il ghiaccio su tutta la caviglia. Come si fa? Così. Prima di tutto si taglia la plastica, vedete? Ecco qua il ghiaccio. Che cosa ci facciamo? Ve lo faccio vedere. Prendiamo una bacinella piena di acqua fredda, ci mettiamo dentro la nostra bottiglia in ghiacciata e ci andiamo a immergere tutto il piede, tutto il piede, eccolo qua, fin qua sopra. In questo modo verrà raffreddata non solo la parte interessata che si è gonfiata, ma tutta la caviglia. Almeno questo è quello che facevo io quando mi succedeva. Poi, volete utilizzare questo metodo? Lo utilizzate. Volete appoggiarci la busta di piselli congelati come fate di solito? Fate un po' come vi pare. Alla prossima!